L'occasione più ghiotta dal dopoguerra ad oggi. Le risorse in arrivo dal PNRR potranno rivelarsi fondamentali per lo sviluppo a patto di saperle impegnare. Rimandare al mittente i soldi dell'Europa è una cattiva abitudine che l'Abruzzo non può più permettersi. Per questo occorre prepararsi bene. Una possibilità per farlo la offre il gruppo regionale di Fratelli d'Italia, che oggi ha presentato in conferenza stampa a Pescara il seminario tecnico-amministrativo Cogliere le opportunità del PNRR, in programma venerdì 5 novembre alle ore 15 presso il Villa Maria Hotel di Francavilla al Mare. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia ha voluto organizzare per venerdì 5 novembre alle ore 15 presso l'Hotel Villa Maria un seminario tecnico-amministrativo, la presenza di consulenti e professionisti che arrivano da Roma, alla presenza di tutti i sindaci, i presidenti di provincia, i tecnici dei varienti, proprio per cercare di dare un input preciso, cos'è il PNRR, quali possibilità dà, quali sono le possibilità di accogliere e anche dare un servizio consulenziale per far sì che specialmente i piccoli comuni, che spesso saranno gli attuatori dei progetti, potranno avere una consulenza e un sostegno tecnico fondamentale perché questa è un'occasione da non perdere, irripetibile, sicuramente l'occasione più importante dal dopoguerra ad oggi. L'Italia ha dimostrato e queste cose le dobbiamo dire che fino ad oggi più del 50% delle risorse spesso le ha rimandate indietro e quindi gli errori commessi non possono essere commessi di nuovo e quindi dobbiamo essere tutti pronti se vogliamo far fare quel salto di qualità all'Italia e all'Abruzzo. Si sa che la parte del leone è affidata alla situazione infrastrutturale, ma secondo lei c'è un altro settore magari meno frequentato su cui però si può puntare per quello che concerne l'Abruzzo? Quando si parla di infrastrutture io parlerei anche di reti idriche che sono forse uno dei problemi che sono emersi con maggiore forza durante questo periodo estivo e non solo, ma c'è pure tutto i finanziamenti legati ad esempio al turismo e alla cultura dove spesso vengono messi in secondo piano, invece noi come regione e come nazione dobbiamo giocarci una partita importantissima su turismo, cultura e ambiente.